Quest'anno collaborerà con noi al quinto mercato della terra della biodiversità anche il salone del libro off portando al nostro mercato questa scrittrice dal nome Laura Pariani che presenterà il suo libro Il gioco di Santa Oca. La presentazione del libro avverrà in piazza alle ore 16 e ci sarà una piccola introduzione anche la possibilità di acquistare il suo libro a seguito della presentazione della scrittrice. Vi aspettiamo l'11 e il 12 maggio al quinto mercato della terra della biodiversità indigena autotoni in via di espansione.